Ciao amici, siamo nell'ultimo giorno del 2024, sono così grato che siete stati con me lo scorso anno. Ti auguro un anno 2024 significativo e gioioso. Questa è la previsione finale di Paolo Fox per il 2023. Di che segno sei oggi? Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 31 dicembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo sagittario. Ideali prima di tutto. Sui vostri ideali non c'è mistero, ne parlate apertamente, convinti di fare qualcosa di utile illustrandoli a chi vi mostra interesse e difendendoli contro chi vorrebbe imporvi un pensiero differente. Tra questi le origini del Capodanno, data variabile fino a due secoli or sono, nulla di astronomico, dunque, per quanto riguarda il 1 grado gennaio solo l'ingresso in carica dei consoli a Roma. Ma c'era anche Giano Bifronte, il signore del tempo, con un volto rivolto al passato e l'altro al futuro. Per l'occasione già ci si scambiavano doni, miele, frutta secca, candelle, nulla di diverso in fondo di quanto il sole e il ricco Plutone nella vostra seconda casa vi spingono a fare oggi. Qualche bell'indumento o oggetto benaugurale lo acquistate anche voi e aggiudicare dal prezzo non solo simbolico. Voglia di interazione, movimento, socialità, per stare con gli altri e condividere svaghi e piaceri oggi spendete come nababbi, nessun problema se il lavoro c'è e anche ben remunerato, ma se il posto è a rischio o se la vostra attività dipende dai capricci delle mode, saggio sarebbe ridimensionare un po'. Il proprio ambiente domestico e familiare, tutto ciò che segue o precede è riferito unicamente ad esso. Possibilità di realizzare progetti per la vita a due, convivenze e matrimoni favoriti. Nei casi negativi, ostacoli e difficoltà derivanti dalla propria famiglia. La vostra situazione economica potrebbe ristagnare a causa di qualche errore commesso tempo fa, riprendete presto la rendini e cercate di porre rimedio agli errori. Buone nuove che arrivano per posta, per email o a telefono. Notizie soddisfacenti fin dalla trada mattinata. Oggi vi sentirete con le energie giuste per affrontare ogni situazione. Meglio una serata con amici che soli. Mostrati sicuro nel lavoro. Proponi le tue idee con convinzione. Sarai curioso. Buon umore. Tante risate con ariete e bilancia. Giornata in cui potrai guadagnare più del solito e fare buoni affari. Sogni ad occhi aperti. Tenderai a idealizzare persone e situazioni. Ottime possibilità di trascorrere ore piacevoli in compagnia di amicizie vere e sincere, e magari tra queste c'è anche chi vi pensa in gran segreto e farebbe di tutto per farsi notare da voi. Oggi non è una buona giornata per chiedere prestiti o aiuti agli amici e ai parenti. Meglio lasciar passare, se potete, un buon margine di tempo e assicurarvi che nulla resti in tenata o per risolvere un vostro problema. Perché mantenere il punto quando avete voglia solo di corrergli incontro? Su, coraggio, cercate la via migliore per un'intesa. I nati di domenica tra le 18 e le 20 oggi potrebbero ricevere una proposta interessantissima in amore. Buone opportunità in amore per i nati di giovedì e venerdì. La luna sembra favorire oggi i rapporti platonici e quelli nati da poco. Una bella congiunzione nel vostro segno di venere, Marte, Mercurio vi dà manforte, favorendo il successo delle vostre iniziative. La luna e il leone collabora a rafforzare passaggi planetari superpositivi per voi sagittario. Mercurio gira mondo per antonomasia oggi è il protagonista della giornata, in perfetta sintonia con la bianca signora che dà il segno del leone, focoso quanto voi, gli dà corda. Se il Natale, come vuole tradizione, l'avete trascorsi in famiglia, sul capodanno non si transige, valigia alla mano e via nella direzione preferita, purché non si tratti di casa vostra o della vostra città. Dove già il pensiero della quotidianità comincia ad andarvi stretto. Effetto di urano in sesta casa, che sogna una libera professione o almeno un'attività più dinamica con varie trasferte, contatti col pubblico, situazioni da dirigere e modificare secondo le esigenze del momento. Amore ed Eros. Un filo di insicurezza nell'affettività la causa di quell'aria indagatrice sempre sulle spine. Se del partner non riuscite a fidarvi però non è un problema suo, ma vostro, troppe esperienze riportate da altri hanno lasciato il segno nella vostra anima che evidentemente non vuole vedere la differenza tra voi e gli altri. L'arrivo di queste prossime feste dell'ultimo dell'anno vi rende oforici e vi fa riunire in una forma più intima e familiare con chi amate. La luna e il leone e venere nel vostro segno spianano i vostri passi in amore. Vi piace preparare sorprese di ogni tipo, piccoli regali e tenerezze, doni gastronomici, alla vostra dolce metà. Lavoro e denaro. Il vostro lavoro si chiama viaggio, già in atto se siete al verde da programmare dopo le feste, ferie permettendo, quando i costi saranno dimezzati. In questo periodo siete comunque in vena di spese, al di sopra delle vostre effettive possibilità, magari peccate di ottimismo eccessivo, ma contando su una promessa da parte di una persona influente o su buone prospettive, magari all'estero non c'è ragione per cui non vi concediate qualche sfizio. Anzi più d'uno. Vi giungono alcuni obblighi e incombenze che non vi aspettavate, ma, con la solita pazienza che non vi abbandona mai, riuscite a prenderli e a svolgerli con più facilità di quanto avevate inizialmente pensato. Il bilancio di questo fine anno lavorativo appare molto positivo, a maggior ragione se siete sagittario della seconda decade avete goduto della lunga protezione della fortuna da parte di Venere in Leone in estate e in autunno. C'è stato chi ha cambiato il proprio lavoro, chi ha rivoluzionato la professione esistente, chi ha potuto maturare e crescere all'interno della propria attività professionale. Il 2024 parte da queste premesse e vi indica già una strada luminosa dove esistono solide basi dove poggiare i piedi e continuare sereni il cammino. Benessere. Sani, belli, disinvolti, l'attività sportiva vi permette anche di fare anche vari strappi alla regola senza mettere su un etto. Intanto gli amici vi invidiano ma ve li vedete a correre al parco al mattino con qualsiasi meteo o a scarpinare per un'intera giornata lungo Erti sentieri di montagna mentre potrebbero andare a ballare, e cena fuori o al centro commerciale? Voi sì, perché siete sportivissimi e spartani, con la pelle dura, ma agli altri se provaste a trascinarli con voi vi darebbero dei matti. Per lei, cittadine del mondo, non paghe di aver fatto regali natalizi, tutti di impronta esotica, acquistati alle fiere dell'artigianato e pagati a prezzi non proprio conveniente, per il cenone guardate verso il sole levante con una lista della spesa tutta imperniata sulle golosità dal sapore orientale. Per lui, cena medio orientale per sentirvi in vacanza, il freddo dicembrino non abbatte la vostra voglia di avventura, dopo tutto anche i re e magi arrivavano da lontano. Colore delle emozioni, cannella. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 9, benessere, 10. Quindi l'anno 2023 si è concluso tra emozioni felici e tristi. Potrebbe essere un anno difficile o positivo per te, ma alla fine lo accettiamo tutti e lo superiamo. Sono molto grato che tu mi abbia sempre accompagnato durante lo scorso anno. Quando arriverà il 2024, auguro a tutti voi un anno pieno di gioia, felicità, buona salute e fortuna. Aspettiamo il 2024 con tutto il cuore. Ciao 2024.